Manicomio! E di manicomio ce ne parla il 118 dei Bambalucci! Eccola! 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 Buonasera, dottore! Buonasera, cosa abbiamo? È un incidente domestico, il paziente si è attomboliato per le scale e si è scricchiato un opionerottolo. PAM! Esco reazioni? Io esco più tardi, che per ora sei davanti anni, che lei non sei nata, esco me... Attenzione! Allora, come si chiama il paziente? Pina! Pina come Giuseppina? No, Pina come penamano picco l'ascensore, la prossima volta per chi si scala, ma tu me lo riesco! Attenzione! Allora, controlliamo il sistema... Oh, tazza di calmo, capis? Un chissà la voce come io, per chi ti capo una ticciata, un loro boffa, ticci il nicchio proprio, è un toso sicchio! Ma cos'è? Il sistema nervoso! Attenzione! A cura! Allora, verifichiamo se il paziente è contuso, sentiamo cosa dice la radiologia... Abbiamo appena trasmesso il brano di Carmen Consoli, contuso e felice, dalla vostra radiologia è tutto! Attenzione! A cura! 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 A cura!